Siamo all'interno del Parco Culturale del Serre. Diventò così nel 1998, quando ottenemmo i finanziamenti europei, allora non ne parlava nessuno, noi li chiedemmo e li ottenemmo, per ristrutturare questo complesso che era completamente in rovina. La parte giù in fondo, che oggi ha un centro espositivo assai importante, era il deposito dei mobili vecchi del comune ed era praticamente una discarica. La gran parte dell'area era in stato di abbandono, sopravvivevano per l'appunto le serre di Torino, alcune serre di Torino, mentre il resto, come dicevo, degli edifici era in stato di abbandono di rovina, compreso il parco compreso. Proprio con i fondi europei venne avviata una ristrutturazione molto poderosa che portò alla costruzione del Parco Le Serre. Il Parco Culturale Le Serre ha ospitato, negli anni a cavallo tra il 1995 e il 2000-2005, importanti manifestazioni di carattere internazionale, soprattutto nell'ambito del circo di persone. Il comune aveva ritenuto di vietare ai circhi di animali, soprattutto ai circhi con animali selvatici, di rappresentare i loro spettacoli a Grugliasco come forma di rispetto verso gli animali e allora aveva pensato di compensare questo divieto con la promozione di circhi di persone. Grugliasco diventò per molti anni, da allora, un centro riconosciuto a livello italiano ed europeo del circo di persone, acrobati, giocoglieri e via. E' di questo passo tanto che ancora oggi qui dentro, seppur in tono molto minore e oramai dimesso, continua ad esistere una scuola di circo e un'attività circense. Purtroppo questo lancio piuttosto importante che questo parco culturale ebbe non ha poi avuto nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi, una sua continuazione e non è solo per il Covid, ma già da prima, per cui è diventato un luogo scarsamente appetibile, nonostante sia bellissimo, scarsamente frequentato dai grugliaschesi perché non capiscono neanche tanto bene che cosa ci potrebbero fare. E dire che abbiamo parlato di università, parleremo di giovani e così via, e dire che questo sarebbe il posto giusto per costruire un parco per i giovani, un posto cioè dove far venire da tutto il mondo performance e artisti che abbiano, diciamo così, il carattere dell'innovazione e dell'innovatività. Ci abbiamo provato facendo qui nel 2002, nella primavera del 2001, un simposio di scultura che ha lasciato a questa città, a Grugliasco, alla città di Grugliasco, non è costato nulla, e ha lasciato a questa città dodici statue in marmo, alcune delle quali si trovano proprio in questo parco. Continuare questa tradizione permetterà di arricchire la città sempre di nuove opere d'arte che la fanno bella e la caratterizzano e permette soprattutto di aumentare la circolazione di persone, perché soltanto persone che circolano presidiano il territorio, fanno vivere il commercio, portano in alto la socialità e spezzano la solitudine che la stagione del Covid ha ulteriormente accentuato e che in qualche modo deve essere risolta. Questo è il posto giusto. Grazie a tutti.